Wow, 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 wow! Cari ragazzi, un saluto a tutti voi. Sono passate quattro settimane da quando non avete più varcato il cancello della scuola. La settimana di vacanza di carnevale già prevista nel nostro calendario scolastico. e queste tre settimane che vi hanno confinato a casa per affrontare questo momento critico del coronavirus. Oggi il 21 marzo è iniziata la primavera e il risveglio della natura comunque già lo stiamo percependo da qualche giorno. Il tempo passa e lo dobbiamo vivere bene anche se non avevamo previsto in questo modo. Abbiamo comunque la possibilità di riflettere in questi giorni su tante cose che davano anche per scontate. Possiamo restare comunque uniti, condividere questo momento di prova particolare per andare avanti, proseguire nel nostro cammino. I docenti vi sono vicini quotidianamente, come sempre, per aiutarvi e accompagnarvi nel vostro dovere quotidiano dello studio. Io seguo a distanza tutto quello che state facendo, ma siete sempre nei miei pensieri e nella preghiera che quotidianamente rivolgo al Signore Gesù. Sono contento, anzi molto contento, per come vi state impegnando e come state organizzando il vostro tempo quotidiano dedicato allo studio. Buona parte di voi sta dando già anche buoni risultati, rilevabili nelle diverse modalità che i docenti stanno effettuando. Qualcuno sta facendo però un po' il furbette, mi raccomando, non perdete questo tempo importante, ne va del vostro bene. Ok? Coraggio, dai! Possiamo tutti insieme dimostrare che siamo una buona scuola e sappiamo fare squadra per dare il meglio di noi stessi. Dopo questo momento daremo sicuramente alla vita un valore diverso. Anche questa è un'opportunità per imparare cose nuove e per imparare il valore del tempo. Da questa situazione ne dobbiamo uscire insieme, ancora più forti. Andiamo avanti, con speranza. Vi saluto con tanto affetto, cari ragazzi. Portate un saluto anche ai vostri genitori. A presto. Ci sentiamo.